La soluzione del mistero del Mottarone sta tutta nei lavori del giorno prima alla Funivia. Infatti sabato 22 maggio la linea è stata ferma per mezz'ora circa perché c'erano dei problemi di funzionamento e la Procura ha deciso di sentire i tecnici a partire da quello che è accaduto sabato e nello stesso tempo visionare tutti i filmati riguardanti gli interventi sulla linea. Si ipotizza che possano essere stati disattivati per errori freni, anche se i testimoni raccontano di aver sentito le ganasci in azione. Nelle registrazioni si vede chiaramente il momento in cui la cabina si ferma e comincia a correre a marcia indietro a circa 100 km orari a due passi dall'arrivo. Quello che abbiamo potuto vedere e capire è che non c'è stato un evento solo, ce ne sono stati almeno due e questo è quello che ha causato la tragedia perché sugli impianti a fune normalmente ogni evento viene previsto e ha una sua forma di sicurezza. La rottura delle funi traenti di una cabinovia è un evento molto raro, accade quasi sempre per eventi esterni. I tecnici non ricordano funi tranciate per cedimento interno in Italia. Forse il paese con le regole più severe al mondo in questo settore. Intanto, mentre la procura ha aggiunto al fascicolo anche l'ipotesi di attentato alla sicurezza dei trasporti, i morti del Mottarone sono diventati 15. Un operatore televisivo che stava eseguendo delle riprese sul luogo della tragedia ha avuto un malore ed è deceduto. Invece il piccolo sopravvissuto alla caduta dovrebbe svegliarsi domani. Il risveglio è partito e in questo momento la risposta del bambino è positiva. Comincia ad avere i primi segnali di risveglio, quindi con colpi di tosse ed alcuni momenti di respiro spontaneo. Ma in termini precauzionali stiamo andando con molta più calma e più attenzione proprio perché la situazione clinica del bambino è critica.